Tancredi per dare la buonasera alla gente di Dragusin e Florin Manea. Buonasera a Florin. Buonasera, buonasera ragazzi. Che se magna Dragusin per giocare così? Che mangia? Dacci la ricetta di cosa mangia, così mangiamo anche noi le stesse cose. Lo so, li devo chiedere anche io. Perché io e te non siamo in forma come lui, capito? Cioè anche i capelli, le altre cose, non è che siamo promessi bene come lui. Era un scherzo, c'era quando lui era in Genoa abbiamo fatto bagno nel mare. E qualcuno ha fatto dei foto e chiedo a uno che gli faceva i capelli. Dico ma come siamo? Radu perfetto, tu un po' grasso, un po' grasso. Molto bene, molto bene, molto bene, molto bene. Senti, allora noi stavamo parlando con Carlo Nicolini che per tanti anni è stato allo Shakhtar e ci stava raccontando un po' che cosa non ha funzionato dell'Ucraina. Poi con Tancredi tra un po' ci spostiamo su quello che significa anche Francia-Austria. Noi cerchiamo di fare ogni tanto un po' anche ci proviamo a fare le persone serie. Ti chiedo invece come è stata meravigliosa oggi e perfetta la Romania con Dragosin che ha fatto una prestazione, lo dicevo prima, pazzesca secondo il suo fast score, il migliore dei suoi. Sì, anche io. Io sono stato allo stadio e ero con un italiano, un socio mio, Valerio Giuffrida, che mi diceva che forse si è sentito che Napoli è venuto a vedere l'attaccante dell'Ucraina. dell'Ucraina. Proprio adesso mi doveva arrivare la teleposta. Sì, che è venuto a vedere l'attaccante di Ucraina. Dico, guarda, hanno scelto una partita, gioca contro Radu, sarà difficile per lui. Ma no, è questo in scherzo. È stato spettacolare, nessuno si aspettava a questa vittoria. L'atmosfera sullo stadio è stata stupenda. Sono stato dentro il cuore dei tifosi, diciamo, con tutta la sua famiglia. Ho visto giocatori grandi della Romania, tutti eravamo lì. Cosmin Contra, ex AC Milan, tanti, tanti. Ho visto Viorel Moldovan, l'ex attaccante della Nazionale. Eravamo tutti sorpresi e felici per questa prestazione che Romania ha fatto. E pensiamo che hanno preso un passo importante per uscire dalla gruppa. Ma Radu, che posso dire? Non c'è niente che questo ragazzo fa che adesso mi può prendere per sorpresa. Perché io so quanto lavora, so quanto vuole diventare il migliore del mondo. E secondo me si continua su questa strada e in due o tre anni penso che sarà un candidato importante come difensore centrale. Poi il suo idolo, Giorgio Chiellini, Bonucci, tutti che erano con lui a Eventus, pensano che anche loro sono fieri perché hanno imparato Rato così bene. Voglio chiederti, poi lascio a Tancredi. Non si sente, aspetta un attimo. Mi senti, mi senti, mi senti Florin? Vediamo un attimo. Ora mi senti Florin? Ora ci senti? Mi sa, no, mi sa che gli è arrivata, quando gli è arrivata la telefonata. Si è staccato l'audio in entrata, quindi lui non sente noi. Non mi sento niente. Faccio uscire così poi lo facciamo rientrare. Carlo, ti ha sorpreso la prestazione di Radu? Come dicevo prima, mi ha sorpreso tutta la Romania perché è entrata con aggressività, concentrati, molto chiusi dietro, probabilmente consapevoli di non partire favoriti, ma orgogliosi di essere un europeo e di giocarsi, perché comunque si sono qualificati, vuol dire che delle qualità le hanno e sono stati concretissimi. Come dicevi, a parte la facilità in cui entravano nel centrocampo, nella difesa dell'Ucraina, però quando arrivavano là, il tiro dell'1-0, ma anche quello del 2-0, erano tiri con cattiveria per fare gol, quindi loro sapevano che avevano due o tre chance ed erano pronti. Le hanno sfruttate tutte, meravigliosamente. Si sono comportati da squadra, tutti uniti, hanno lottato tutti, risultavano per ogni take, per ogni contrasto, per ogni palla recuperata e queste cose fanno i risultati, soprattutto in questo tipo di competizioni. Adesso vi sento di nuovo, non lo so. Sì, sì, no, perché ti è arrivata una telefonata per questo. Senti Florin, te lo devo chiedere anche perché è chiaro che le voci corrono. Si racconta, da fonti anche autorevoli, che il Tottenham stia guardando con attenzione Riccardo Calafiori. Ovviamente conosci benissimo il profilo di Calafiori. Ti chiedo, ma il Tottenham ha veramente bisogno di altri centrali? Cioè, fa strano che un giocatore così forte guardi ad altri centrali? Arrivano queste voci secondo te perché bisogna parlarne o...? No, guarda, io quando ho avuto l'incontro con Lange, con il direttore sportivo di Tottenham, lui mi ha detto che all'inizio di mercato, prima o dopo si è finito il campionato, che non cerca un difensore centrale. Massimo mi ha detto che c'è un obiettivo, uno che può fare anche centrale, ma giocare vari roli. Questo mi ha detto lui. Adesso, nella vita non si sa, ma Radu è pronto a lottare con tutti, non c'è un problema, c'è concorrenza. Io solo, anche quando ho uscito un po', che ero un po' incazzato che non gioca, era una serie di partite di 4-5 che Tottenham ha perduto e lui non prendeva la chance di giocare. Io penso che, e voi mi dovete dire se sbaglio, se c'è un competizione uno sbaglia, entra l'altro, sbaglia quello, entra l'altro. Ma quando giochi 4-5, 6 partite, vedi che non si cambia niente, anche se la squadra perde, diventi un po', lui no, ma io sì, ho diventato un po', diciamo, preoccupato di dove va la carriera di Rado. Perché un giocatore così forte non lo puoi fermare, stoppare la crescita. Siete d'accordo con me? Ti aspettavi un po' più di spazio per Dragusin nel Tottenham in questi primi mesi, ecco? Perché il ragazzo stava bene. Sì, anche dopo perdi 4-5 in fila, no? Pensi che magari si cambia qualcosa, ma non voglio dire che loro stanno meglio. Io adesso dall'estate, un altro anno, viene dall'inizio anno, e c'è sue chance come Van de Ven, come Romero, come non si sa che succede, ma io come conosco Radu, lui va a giocare anche per Tottenham. Però se non sbaglio, le ultime due giornate ha fatto il titolare? Sì, ha fatto molto bene. Con Manchester City, secondo me, ha fatto molto bene. In quest'ottica, quindi dal Tottenham mi hanno detto che ci puntano, che ha sentito la fiducia, se è stato anche il titolare nelle ultime due? Sì, 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 ha sentito. Poi, lui ha fatto bene contro giocatori importanti, ricordati in Italia, contro Simé, contro Leao, Giroud, Lukaku, giocatori attaccanti forti, Haaland adesso in Inghilterra, sono giocatori fortissimi. Se non sei preparato, ho visto che è successo anche a Miki Van de Ven contro Newcastle, può succedere, hai capito che uno ti ammazza, ma secondo me fino adesso l'unico che penso che l'ha messo in difficoltà è stato Lautaro Martinez, ma parliamo di anni quando lui era a Salernitana. Certo. Allora, voglio sentire un attimo Tancredi, però non voglio trattenere tanto Carlo Nicolini, che già stiamo trattenendo da diversi minuti. Lo voglio ringraziare ovviamente per averci dato un po' di spiegazioni anche sul tombo dell'Ucraina di oggi. e Carlo se ti farà piacere ci continuiamo a risentire durante il corso dell'europeo. Molto volentieri, buona serata a tutti. Ciao Carlo, grazie, grazie, grazie. Grazie Carlo, grazie. Grazie di tutto. Grazie a la Romania. Ecco, giusti, giusti. Grazie, grazie. Tanc, allora, se vuoi lo puoi dire a Florin che Dragusin non ti piace proprio come difensore, ne hai il diritto. Niente, se l'ha inventa Florin, tranquillo se l'ha inventa. No, a parte che dobbiamo ringraziarlo per la notizia, non so se tu l'hai già battuta, ci ha detto Florin il Napoli l'avvisionare Dovic, io spero... L'abbiamo fatto, l'abbiamo già battuta, l'abbiamo già battuta. No, ti volevo chiedere, allora io ho visto che Giordanescu ha detto a non cominciamo a dire che questa è una generazione d'oro, questa è una generazione di cuore, ha detto. Ma la cosa soprattutto che ti volevo chiedere è se si aspettava che la Romania giocasse così bene. No, nessuno si aspettava. Poi ti dico un'altra cosa. Stanciu è un giocatore che io l'ho preso a 16 anni come Dragusin. È uno che l'ho cresciuto io, Stanciu. Poi Dragusin è giocatore mio, abbiamo appena finito la negoziazione con Trabzonspor, va a giocare a Trabzonspor. Penso che ci sono dei giocatori rumeni bravi, c'è uno anche in Italia che ho portato a Genoa, un attaccante che io mi fido tanto, che sarà un crack, dico io, si chiama Janis Dobrescu, che vengono da indietro, hanno un modello come Radu, hanno cominciato anche i giocatori rumeni di capire che senza lavorare, senza metterti a disposizione, senza mangiare giusto, senza andare a letto prima di 10-11, non puoi arrivare. Radu ha dimostrato a tutti i rumeni che si può arrivare, perché prima non c'è un giocatore rumeno che ha partito a 16 anni che non ha tornato indietro. Nessuno. L'unico che ha riuscito a rimanere lì è stato Radu Dragusin. E adesso ci sono altri, c'è un difensore centrale, Mancino, 16 anni, lo stesso, 2008, che lavorano, tengono la nutrizia, vanno in palestra due o tre ore, cominciano a fare le cose che ha fatto Radu. Io penso che il calcio rumeno ci avrà di nuovo una parola da dire in tornei importanti. Quindi sta crescendo assolutamente. Quindi Denis Dragus... Sì, voi aiutate tanto, portiamo tutti in Italia a 16 anni. Va bene così. Quindi ci stai dicendo che Denis Dragus è del Trabzonspor? Sì, sì. Abbiamo quasi... Già fatto la settimana scorsa, vero? Molto. Molto. La settimana scorsa, aglioso. Veramente, vorrei che ti dico la verità. Vai. Da due mesi. Ah, vabbè, allora. E allora. Senti, Florin, te lo chiedo, poi non ti facciamo perdere tanto tempo. No, no, sono in camera, adesso rilasco. Ah, posso? Ho messo il telefono su Duna Disturb perché ho 50 messaggi, poi sono stato con i tifosi. Qualcuno, anche di qualche dirigente italiano? Non ho cercato tutto, ma penso in questo momento che sarà difficile. Senti, ma... Se tu c'erai adesso, non lo so, direttore sportivo di Totem, vendrai Dragusini? No. Ok, grazie. Vabbè, però si può sempre chiedere, eh, voglio dire. Si può sempre chiedere. Senti, ti voglio solo chiedere se prima dell'europeo qualche contatto con qualche club italiano che ha chiesto informazioni c'è stato. Sì, è stato perché... No, non prima. Quando io ho uscito con... Mi sembra che è stato a te che ho detto che non sono contento, che non gioca. E hanno preluato tutti, tutto il mondo, Totem, mi odio. Mi odia tutto il mondo. Dice che parlo troppo. E non parlo troppo. Parlo che si deve parlare e dico sempre la verità. E poi sempre faccio l'interesse dei miei giocatori, non mio. E ho fatto questo tutta la carriera di Rado. Mi ricordo che a 16 anni c'era l'offerta di Chelsea e l'offerta di Juve. E ho scelto Juve perché ho detto guarda, se vuoi diventare difensore centrale forte deve andare a Juve. Anche se Chelsea pagava doppio che pagava Juve. Poi è stato sempre a 19 anni abbiamo rifirmato con Juventus quando c'era Newcastle, c'era Wolfsburg. Abbiamo sempre scelto la strada giusta. Abbiamo scelto Genoa andare in Serie B. Adesso quando abbiamo arrivato tramite Bayern, Monaco e Tottenham ho lasciato lui dico guarda anche Napoli poteva scegliere da tutti e tre era lo stesso per me. Non era una cosa penso che abbiamo fatto i passi giusti quando si doveva scegliere bene. A livello che lui è arrivato adesso a Napoli a Tottenham va bene quasi la stessa cosa. Ma è vero che era il suo sogno giocare in Premier League? La Premier era un po' il suo grande sogno. Sì, da bambino. Ho detto prima il contratto di Bayern era doppio doppio che guadagna adesso. Io non conosco tanti giocatori e voi mi potete aiutare con questo che rifiutano e prendono metà del stipendio. Per questo lui è un giocatore speciale un giocatore intelligente un giocatore che pensa solo alla carriera e niente di più. Per questo Senti Florin ma tu te lo ricordi come portiere Emiliano Viviano? Guarda che bravissimo. Come no? Ero amico con Vigorelli con il suo agente. Molto bene. Buonasera Viviano. Salute. Ciao Viviano. Ciao. Non ti conosco personalmente ma ero tu lo sai io non so io non so se te lo hanno mai detto ma il periodo che lui non giocava al Genoa io ho provato a portarlo in Turchia tra cui chi ha capito a Genoa a Dragush hai capito Viviano sì io ho detto nella mia testa non ci hanno capito un cazzo di quanto è forte vediamo se me lo danno un anno in prestito invece poi l'hanno capito e quindi se lo sono tenuti e quindi se lo sono tenuti molto bene Marco aspetta prima di non so se volevi salutare Florin vai vai faglielo un'ultima lo salutiamo no ma perché so che la materia è molto delicata quindi scelgo bene le parole c'è un calciatore fortissimo l'attuale club in Italia chiede una barca di soldi piace all'Inter tu conosci bene questo giocatore dici solo se pensi che possa arrivare qualche notizia che alla fine si possa muovere questo calciatore fortissimo che piace all'Inter sì Albert parli di Albert sì per me è un giocatore fortissimo come hai detto oggi sono stato con Valerio con Giuffrida che sono ufficiali l'agente suo procuratore suo ma io ho un partner con Valerio poi rado il miglior amico con Albert allora sono anche io in giro di trovare soluzioni per Albert penso che al fine si troverà una soluzione perché lui ha fatto veramente benissimo questo anno penso che è più quello che c'è più dribbling ha fatto 15 gol poi c'è un ragazzo stupendo io lo amo come persona scherzo tanto con lui ho fatto una telefonata ti porto in Arabia se mi porti 20 milioni sì scherzo sempre con lui queste cose ma no ma c'è solamente l'Inter tra le italiane che hanno disturbato Albert adesso o c'è anche altri club non ti dico che mi ha detto Valerio che ho letto in giornale che sentivo in giro così c'era anche Juve Inter Napoli mi sembra che non è interessata l'unica di queste importante che non ho sentito mai di essere interessata di Albert io ne so un'altra ma lui ha detto no però non la dico non è in Italia sì sì lo so di chi parli ma in Inghilterra è difficile fare in Inghilterra è difficile quindi secondo te alla fine va all'Inter penso di sì oppure viene qualcuno con petrodollari importanti cambia tutto eh senti Florin facciamo così te la strappo già la possibilità di parlare con te scusami sei anche procuratore di Mann? no di Mann no di Dragus e di Dragusin no Mann è con Giovanni Beccali ah con Beccali comunque è forte mi piace tanto grande Giovanni Beccali la storia Giovanni Beccali è stato mio agente quando giocavo no ma che meraviglia sì ma io con Giovanni siamo molto amici quest'anno vengo in Romania eh ti aspetto tu tu quando c'erai Arsenal dobbiamo incontrare io ero con Claudio Vigorelli tu erai con lui sì forse mi ricordo sì 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 ma digli a Claudio andare a fanculo diglielo no 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 Giovanni adesso ha 70 anni non li posso prendere l'ultimo giocatore a viaggiare sì anche perché se no poi ti finisce male esatto con me no sarebbe lì con te ma beh Florin sei un grande ci risentiamo domenica dopo la partita di sabato sera tra Belgio e Romania ci risentiamo domenica voglio guardare c'è ancora 1-0 per Slovacca sì 1-0 Belgio Slovacca ancora 0-1 ciao Florin ciao Florin